E quelli non erano proprio forti contro ZOO Ciao banana come va? Bellissimo Oh oh Cosa pensi di quest pala? Penso che sia un ottimo counter di molti deck ma non di quelli che vengono giocati in questo momento Almeno per quella che è la mia esperienza Ciao Gary mi rispondi a Mattia please Non lo vedo il messaggio di Mattia quindi credo che non mi abbia taggato o era quello del quest pala 8 mana 10-24 taunt E che devi fare? Io teoricamente dovrei Anche se questi sono pezzi eccetera Io devo giocare l'eo stesso Non posso permettermi di fare tap qua Troquest druid Soprattutto perché Ha già avuto coin che è già un vantaggio molto forte Quindi tocca fare così Tappeto volante Sicuramente Vrat sulla 3-2 Sarebbe bruttina Hero power è buono Beh questa pressione qua va bene Knife juggler No Ok vediamo 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 Il mio povero cuore 2-6 taunt è uscito Buono Quando non serve Quando non serve le piglio tutte Pensava a starfall completando la quest E' chiaro Però non è proprio così che funziona Io la Silvana Non posso vincere tutte No Giocando così decisamente no GULDAN L'hai voluto tu Eh 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 Addirittura L'aiutante No dai L'aiutante e l'agente no Dobbiamo cercare il tappetone E dobbiamo cercare Il vulture di dio Dobbiamo cercare il vulture cattivissimo Dai Sì Potrei fare moneta secondo Impe Non credo che lui avrebbe molte risposte Però è un tempo È un coso È un Cyclone Mage anche lui Quindi in realtà Con una bella Apprentice Se ce l'avrebbe la risposta Fa Ray Ray Frost Frost Ed è un problema Se invece lui fa doppio Frost qua Per ammazzarmene uno È molto meglio Mamma mia Quando uno c'è il cervello Però purtroppo È quello dal trucco di magia Questo è Questo è un problema Questo è un problema Comunque Andiamo avanti lo stesso Ciao Ricky Certo che sono tornato Lol Quanto tempo devo stare in vacanza Lol Una vita Aiutante raggiante Ieri sono andato al parco E ho visto delle oche inglesi Le ho riconosciute Perché facevano Here 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 king Ieri sono andato al parco E ho visto delle oche inglesi Le ho riconosciute Perché facevano Here 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 Anziché fare qua La fine sta arrivando Giocato così Mi venisse il cancro Patto sinistro Patto sinistro Unità Precisione Perfezione Primitivo Essere primitivo Uno due Vediamo cosa esce Quante possibilità Perché se no Se tappo prima Cosa posso pescare Che mi faccia proprio Cambiare idea Niente In realtà Ciao Ciao Minore di tre Ciao Ciao Diego Che sporone Ok Cing Cha-ching Bella Diacone Grazie per il rest up Welcome back To the family Per i 23 mesi Mio Dio Ok Adesso tiriamo fuori Il tappetino Da lì Poi Ce lo mangiamo Poi Cerchiamo con il lacche Anche se qua Ci stava un tap Con il lacche Potremmo trovare La un'umana Che buffa tutti Sarebbe proprio Figa When you're good You're good Fai so flame strike Vai Fai reno Dai Dimostrerò La paura Ma che mi vuoi mostrare Il concede Bottom right Bro No non è vero Potrebbe ancora fare Frost 9 Secondo me Sei morto lo stesso Però Sei R pe 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 Mazzo gira Mazzo forte Devo capire Qual è Il matchup Peggiore Minchia come me la son Chiamata Devo capire Ma stai zitto Perché te ne devi chiamare Va bene Devo capire Quello è il matchup Peggiore Warrior Sbra Sì proprio Pa Più Pa Pa Sì Pronto All'azione Vittoria Non contemplata Adesso vediamo Un attimo Certo che si inizia Con uno tre Ok Yolo È davvero necessario No non è Insta con Seed Lui deve giocare bene Vabbè Certo che se Certo che se Se partiamo così Se partiamo così Sicuramente ha delle Ottime chance Allora Questo succede tutte le volte Quindi lo facciamo Va bene Moneta Rush Rush Il problema di Rush Rush È che mi veniva Quasi voglia di farlo Sulla cristallizzatrice Forse non sarebbe stata Neanche una brutta play Però Glielo devo far spendere Per forza quello Quindi Se no Non posso fare questo E questo va fatto adesso Così trovo Un turno buono Per fare cose Altrimenti Più tardi È già tardi Più tardi È già tardi Non è necessariamente Meglio sulla cristallizzatrice Perché avrebbe dovuto Fare un turno Nel c***o lui Non vorrei metterci Troppa roba Vorrei costringerlo A fare A fare brawl Il problema è che Per costringerlo A fare brawl Devo correre un rischio Su Ziliax Uno per Metterci anche Metalufo È un po' troppo Mi viene da dire Un po' troppo Un po' troppo Solo Ziliax Mi incula forte forte Chiaramente Brawl È Un rischio grosso Però Buona Molto buona È vabbè Mannaggia Mi tocca mettere Questo 4-5 Che è un overcommit Sulla brawl Mostruoso Ma se non lo faccio Perdo di Warpath A cui bastano I tre cicli Con sei mana Se mi fosse uscito Almeno un drop Giuro Un drop Con almeno Quattro vite Non avrei giocato La 4-5 Uh Ehi Questo è Vuol dire brawl Quindi Assemblaggio Assemblaggio Che stai cercando Is this GG Time Neanche Warrior Avrebbe perso Lo stesso Quindi in realtà Il mazzo è proprio forte Oh Paladino Questo si che è un match up Che mi intriga Molto bene Molto bene E in realtà Soulfire Ne fa di cose In questo match Ne fa di cose In questo match Ma Penso che sia più forte Cercarmi il Il tappeto O cercarmi Il Vulture Di nuovo Però Soulfire Ne fa di cose Cazzo Forse ho fatto Una minchiata Ne fa davvero Tanti di cose Soulfire Not sure Not sure Forse Forse Soulfire È da tenere Che culo Di merda Che culo Di merda Letteralmente È l'unica carta Che mi Mi dà fastidio In questo In questo spot Che culo Va a cagare va Davvero necessario Va a cagare Che culo Fa qualsiasi Fa qualsiasi altra cosa Morto lui Dai 50 50 Demi vida loca Vai Mettiti questa mela Su per il culo Vai Va bene Va bene va bene Ah no Va bene un cazzo Va bene Va bene un cazzo Va bene Ehi Assore da La carne tradisce La carne tradisce La carne tradisce La carne cristana Sberrà Ehm Queste pietre Mi spezzeranno Le ossa Va bene dai Se non fa prisma Gli stiamo dietro Ok 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 L'eroe non proprio Il migliore dei top Ma si poteva pescare Peggio di così Bambola Grazie del lost Ma si poteva Pescare peggio di così Qual è il top deck peggiore? Ma letteralmente Quello è il top deck peggiore Per dio Queste cose Mi fanno una paura Incredibile Direwolf Guarda quello Fa iro power Perché c'ha in mano La ottomana Che trollata Dai Verso il dolore Mi spinge in testa Per Ha un solo Blue Gill 5 2-7 Devo tradare pure Carl può tradare lui Non è meno Burlock in campo L'unico vantaggio Lui mi porta via O direwolf O lanciatore di coltelli Prima di fare L'ottomana Invece adesso Se faccio sta cosa qua Che fa lui? È matto È matto Sei pazzo? Sei completamente fuori Dio Fermi Allora Oddio Ho una marea Di top deck Per il little Ma maria Impazzito L'impazzito L'impazzito Completamente Sì Sta merda Allora Mi manca Tipo Soulfire Mi manca Genio del male Faccia strada What a player Baby Oh my god Ok Mi avrebbe dato Molto molto fastidio Perdere sto match Oh Molto bene Rexar Secondo me Match up intrigante Vediamo se siamo Sopra o sotto Vediamo se siamo Sopra o sotto E se o mai Siamo sotto Molte cose che fa lui Sono molto fastidiose Zephyris Mi distrugge Explosive Dipende Ma potrebbe distruggermi Però è anche vero che 3 mana 4 5 È molto fastidioso Per lui che fa 4 danni Con 4 mana So cosa hai fatto You're fucking dead Crystallizzati Crystallizzati Quella è explosive Secondo voi Ma soprattutto Se è explosive Vale la pena Salvare La due Quella Fanculo Crystallizzati Ok 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 Guarda Hai visto che fastidioso Che è Il 4 5 È stra fastidioso Il 4 5 Secondo me Questo 4 5 Mi dà Un po' di vantaggio In questo match Fortissimo Per carità Però adesso Devi anche inventarti Qualcosa Per l'avvoltoio Se c'è una risposta Anche a questo Man Sei più bravo tu Se adesso mi fai Non lo so Lince Morso Che cazzo ne so io Sei più bravo tu Pazienza Hai qualcosa Da nascondere Ho qualcosa Da nascondere In realtà Sì In realtà Sì Peppero Quindi Una carta Due carte Rischiamo Sul rat trap Pur di giocarci Stomano Oppure Vi facciamo I cazzi nostri Se invece facciamo I cazzi nostri Che se ti do il ratto Adesso È terribile Con ogni probabilità Era snake Eh Però Non credo Che ne valga La pena rischiare 99 periodico E snake D'accordo Ma quanto rompe Il cazzo Knife juggler Che fico Gli la mettiamo Una mela nel culo? Sì Che gliela mettiamo Una mela nel culo Adesso invece Me la rischio No Non vale la pena Dai Va bene così Mannaggia Ora Veramente il ratto In previsione del ratto Avevo pensato di fare Le evolve Pensate voi Però va bene Dai Ogni tuo desiderio È un suggerimento Per me Che mi dà Gli dà shadow flame La peggiore? Mi viene da dire Shadow flame Credo Sì La reclutatrice Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene No Non va più bene Rip Come vedete Fa tante cose Ve l'ho detto Zefris è veramente brutto Questo matchup Lo stesso 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 matchup